Partiamo dalla riete. Non cercate soluzioni facili. Se volete risolvere un problema di lavoro come volete voi, la strada è solo quella. Non abbattetevi comunque, perché saprete risolvere al meglio ogni situazione. Toro, qualche discussione sul lavoro potrebbe mandarvi la giornata di traverso. Date alle parole il loro giusto peso e andate dritti per la vostra strada. In amore, non pretendete che il partner faccia sempre quello che volete voi. Gemelli, tante piccole cose che non vanno vi fanno saltare la mosca al naso. Sembra che il bel clima di relax dei giorni scorsi sia improvvisamente svanito. Datevi da fare per rimettere in sesto il vostro rapporto sentimentale. Cancro, una bella notizia di lavoro rischiara la vostra giornata e vi dà l'energia necessaria per rimettervi in gioco. Non abbiate paura di dire quello che pensate a un collaboratore. Saprà comprendere e apprezzare il vostro punto di vista. Leone, siete insolitamente taciturni, come se aveste quasi paura a parlare e mostrare al mondo esterno quali sono i vostri reali sentimenti. Ma non siete per caso voi che temete di leggervi dentro qualche cosa che non vi piace? Vergine, mettete in preventivo qualche piccola noia di lavoro che potrebbe portare con sé una spiacevole discussione. Fate buon viso a cattivo gioco e vedrete che tutto si risolverà nel migliore dei modi. Bilancia, poche novità in questa giornata in cui tutto vi scivola addosso con estrema facilità. Riuscirete a non arrabbiarvi per nulla e questo alla fine vi procurerà più di un vantaggio. Provate anche a parlare a cuore aperto ad una persona che vi piace. Scorpione, certe malinconie non accennano a passare, ma la colpa è anche vostra che non fate nulla per lasciarvi il passato alle spalle una volta per tutte. Sul lavoro nuovi progetti prendono forma. Sagittario, le idee che avete per la mente potrebbero funzionare molto bene a patto che sappiate svilupparle in modo appropriato ed obiettivo. Infatti non tutti la pensano come voi, soprattutto sul lavoro. Capricorno, mettete troppa carne al fuoco. Infatti la vostra tendenza potrebbe essere quella di voler strafare, col risultato poi di non portare avanti nulla nei dovuti modi. Cercate invece di fare poco ma bene. Acquario, un po' più disponibili del solito, ricominciate il vostro tran tran lavorativo con rinnovata energia. Sarete in grado di risolvere in tempo reale qualsiasi problema si pari di fronte a voi. Non fatevi abbindolare dalle belle parole. Pesci, le difficoltà non sono ancora finite. Bisogna rimboccarsi le maniche e combattere le ultime battaglie prima di poter godere il meritato riposo. Sia sul lavoro che nella vita privata avrete le vostre belle soddisfazioni. Grazie. 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 Grazie.